let's go birchers e benvenuti a questo classi overpower qui su call of duty black ops 3 iniziamo subito dalla beta con questa serie bene oggi vi voglio portare un classi overpower che avete visto anche ieri nel video quella delle 87 kill questa classe è assolutamente distruttiva disumana non ho mai visto una cosa del genere il man of war è un'arma sbroccatissima il perché voi chiederete perché quest'arma ha un basso radio di fuoco quindi è molto precisa ma ha un danno elevatissimo e poi ha comunque 30 colpi questa classe però io ve la consiglio di usare il man of war con un minore dot perché vi da diciamo uno zoom in più ed è molto più utile per mirare da media distanza e comunque per tenere il bersaglio agganciato in più utilizzare il grip per ridurre il rinculo dato che quest'arma oltre a un colpo e l'altro ha veramente un altro rinculo e finirebbe sparare un colpo dritto un colpo a destra un colpo a sinistra un colpo più su un colpo più giù eccetera eccetera utilizzare quick draw cioè estrazione rapida per mirare più velocemente e ovviamente fare gli agganci eccetera eccetera per colpire gli avversari e poi il quarto accessorio che è quello più importante di tutti utilizzare rapid fire rimuovere ovviamente la secondaria rimuovere tutti gli attachments vali le letali le tattiche utilizzare questi perk flag jacket assolutamente perché si prendono meno danni dalle esplosioni utilizzare fast hand che vi fa cambiare arma più velocemente vi fa mirare più velocemente quando sprintate e poi il gun ho che la vostra arma può sparare nip fire mentre correte tirare granate eccetera eccetera mentre state correndo questo assieme a fast hand e a estrazione rapida mirerete velocemente anche quando siete in corsa io vi consiglio di utilizzarla così questa classe principalmente perché potrete comunque odgannare quasi qualsiasi nemico perfino gli smg avete un token in più che potete usare o per una letale o una tattica io vi consiglio ovviamente per una stun una concussion come viene chiamata la stun che è sgravissima o se no utilizzate l'rk5 la pistola a tre colpi che è veramente ma veramente sgravata è una sorta di mini b23r di black ops 2 quindi vi consiglio questo mio setup spero vi sia piaciuto spero vi sia piaciuto il piccolo gameplay di sottofondo io vi lascio fatemi sapere se volete altri classi overpower qui su black ops 3 io vi saluto butchers ci becchiamo al prossimo video let's go